...la porta numero tre, troverete ciò che cercate, ecco! Guardate! Il pisampasso! Alle mie scarpe da ballo ai piedi! Perché questi rospi non ci lasciano passare? Perché non ci lascia passare? Sì, proprio come la zia Florinda! Forse adesso ho capito! La persona che ha scritto questa lettera si era messa del profumo che ha impregnato anche la carta della busta! È per questo motivo che si sente profumo di fiori! Ehi, mi sembra un ottimo indizio! Quasi le cinque! Il tempo sta per scadere! Dobbiamo andare all'appuntamento con Maialino Postino e risolvere il mistero prima che finisca il suo giro! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Ma perché non ci lasciano passare? Amici miei, così non va bene! Cirillo è di nuovo qui con voi in diretta dal luogo dell'atterraggio! Maialino no! Che cosa ci puoi dire di questa tua esperienza di volo con dei palloncini? È stata un'avventura straordinaria! Ma sono molto più contento di essere tornato sulla terra sano e salvo! Devi ringraziare Sandrino per questo! Il tempo è tornato! Grazie per...